200.000 euro per il Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca e dell'Acqua Cultura. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il finanziamento di 200.000 euro per il 2023 del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca e dell'Acqua Cultura, dietro le richieste del Deputato regionale dei Fratelli d'Italia, Carlo Autere, e dell'intero gruppo Allars. Il contributo è destinato alle imprese di pesca e a relativi equipaggi e alle imprese di acqua cultura, nonché agli operatori della pesca artigianale, inclusa le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, colpite da calamità naturali, avversità metomarine di carattere eccezionale o di naufragio in caso di intervento straordinario di salvotaggio a mare. È consentito un aiuto fino al 100% per compensare danni materiali ed ha mancato reddito subiti entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali. Questa è la politica di chi sta vicino al territorio, le parole di Autere e di chi si interessa e si impegna per il bene della comunità, senza per forza volersi intestare prebende varie a destra e a manca, memore forse dei vecchi retaggi da democrazia cristiana. Non si tratta di soldi a pioggia o a caso, ma di un aiuto concreto che si trova in difficoltà nel portare a casa un pezzo di pane grazie al proprio lavoro.